Il paradiso delle signore, giovedì 5 marzo 2020. Marina per la prima volta dimostra un po' di disponibilità nei confronti di Rocco. Infatti la giovane accetta l'invito di Amato al cinema. Intanto è tempo di conquista anche per Achille che appunto riesce a far accedere Adelaide. La donna decide di lasciarsi andare alle avanze dell'uomo sotto gli occhi di Umberto che capisce di non avere più nessuna speranza. Angela decide di confidare a Riccardo tutta la sua sofferenza per la perdita di suo figlio ormai definitiva. Il ragazzo le dice che può assolutamente comprenderla. Luciano e Silvia continuano a stare insieme e a portare avanti il loro matrimonio anche se ormai è chiaramente finito. Si tratta di una strategia per evitare di compromettere ulteriormente l'equilibrio di Federico. Angela intanto non si trattiene più e rivela a tutte le sue amiche la verità sul suo bambino. Riccardo intanto sta pensando a un piano per far incontrare la Venere con il suo piccolo, almeno per un'altra volta. Grazie a tutti! Grazie a tutti!